Assessore Rambaudi, Liguria, Fora Africa è il caso di dire? Sicuramente l'Africa è uno dei territori che noi abbiamo individuato come territori privilegiati di intervento nelle iniziative di cooperazione allo sviluppo e quindi con piacere accogliamo questa volontà di 17 ONLUS che oggi sono qui a mettersi in rete e a lavorare insieme appunto a supporto dell'Africa con progetti non di tipo assistenzialistico ma progetti di sviluppo. Già che parliamo di Africa, il razzismo, la nostra regione è razzista o no? Io spero di no. Sembra che parlare di cooperazione sull'Africa potrebbe anche alimentare il fatto che stiamo vivendo una crisi, c'è una fortissima crisi, c'è una fortissima difficoltà per le famiglie, potrebbe anche generare un po' di indifferenza. Sì, ma io penso che sia importante anche in un momento di crisi, di difficoltà per il nostro territorio in cui bisogna dare molta attenzione alle fragilità del nostro territorio, anche avere uno sguardo oltre, quindi non abbandonare la solidarietà con altri territori ancora più in difficoltà di noi. Poi stiamo parlando di grandi energie del volontariato, di persone che si mettono a disposizione, che mettono a disposizione le loro professionalità, quindi con costi veramente nulli o esigui per gli enti pubblici. Grazie a tutti.